Mistero in Belgio, sullo sventato attacca una caserma messo in atto da un uomo a bordo di un auto. Verso le 9 del mattino, un uomo mascherato ha tentato di sfondare il cancello della caserma che ospita un comando dell'esercito senza riuscirci. I militari hanno sparato quando l'uomo ha cercato di dileguarsi senza ferirlo. L'attacco è avvenuto nella città di Flawin. La caserma ospita circa 650 soldati. L'assalitore è stato inseguito e catturato. Si temeva che l'auto fosse carica di esplosivo, ma in realtà all'interno non è stato trovato alcun ordigno. Le autorità hanno tranquillizzato la popolazione, anche se non è ancora chiaro perché l'uomo, un 32enne, abbia messo in atto il suo piano. Controlli sono in corso in tutta la regione per cercare di chiarire il mistero.